Siamo con Carlo Daldani, direttore artistico del Nuovo Teatro Rione, al via la quarta stagione teatrale con un nome un po' particolare, Adesso Noi. Ci spieghi il motivo? Adesso Noi è a tutti gli effetti una presentazione, o forse quasi oserei dire un'imposizione. Il Nuovo Teatro Rione decide di presentarsi con ancora più fermezza nella proposta teatrale romana e quindi lo facciamo con un nome forte, Adesso Noi. Adesso Noi per il primo anno il nostro impegno viene premiato, ci autopremiamo in qualche modo essendo presenti in cartellone con uno spettacolo al mese, a partire dal nostro evento di presentazione per poi chiudere con maggio. Quindi è un'offerta, un'offerta valida, varia, variegata per tutta Roma. Un'offerta che si ripercuote in un certo senso anche sul sociale? Il sociale è un tasto dolente per noi, ovvero sin dal primo anno abbiamo cercato di avvicinare questo tipo di mondo e ci siamo impegnati ad aiutarlo a crescere con diversi progetti, tra corti dalle gare, costellazione e cancro e quindi ci siamo stati sempre vicini, fino ad arrivare poi in questi ultimi due anni anche l'associazione Flavio Tortosa. È una cosa di cui non faremo a meno, ahimè per motivi di vita vissuta che ci toccano da vicini, altri perché siamo sensibili a questo tipo di domani.